finanziamenti ed opportunità per rilanciare il futuro turistico e culturale della costa del vesuvio all'evento promosso da stecca incubatori in imprese ieri pomeriggio con lo sfondo del porto di torre del greco hanno partecipato esperti del settore un momento di confronto per comprendere le necessità del territorio e fare rete con l'obiettivo di portare avanti un progetto imprenditoriale abbiamo riunito intorno allo stesso tavolo se possiamo chiamarlo tavolo perché è stato più che altro un salotto informale tutti gli interlocutori utili per la costruzione di un progetto imprenditoriale abbiamo avuto due ospiti illustri che sono responsabili delle misure di invitalia rispettivamente cultura crea e resto al sud ed Italia economia sociale la banca ci siamo noi come incubatore e il consorzio costa del vesuvio per dare l'idea per dare l'informazione che su questo territorio se c'è una volontà di intraprendere ci sono tutti gli elementi per poter trasformare la propria idea in un progetto imprenditoriale la cornice del ragionamento è chiaramente il rilancio culturale e turistico perché pensiamo che questo territorio abbia ancora molto da esprimere sotto questo punto di vista dobbiamo ringraziare la stecca che riesce a portare avanti queste iniziative e nello stesso tempo far sì che possono esserci dei fondi affinché resto a sud restiamo a sud di alla possibilità ai giovani di non allontanarsi dalla loro città dai loro luoghi di origine e di investire quelle che sono le proprie idee quelle che sono le proprie formazioni che hanno avuto nella scuola e università con attività che possono servire a loro stessi e possono servire a tanti altri giovani questo incontro è un tassello di una strategia più ampia nasce per dare delle opportunità alla rete d'impresa che abbiamo creato in vitalia è la titolare dei finanziamenti pubblici per lo sviluppo e per il turismo li abbiamo invitati qui e quindi siamo riusciti in qualche modo ad avere da noi i soggetti dello sviluppo quindi non sono le singole imprese che devono andare a roma per cercare un finanziamento ma in vitalia che viene sulla costa del vesuvio per offrire le opportunità alle aziende del settore turistico su cosa bisogna puntare riguardo al nostro territorio allora io ritengo con forza che questo sia il distretto turistico culturale con più possibilità di crescita in tutta Europa abbiamo una serie di realtà gli scavi il vesuvio le regge le ville il mare che non ha nessun altro distretto turistico messo insieme ecco noi riteniamo che su questo si debba provare a lavorare in particolare bisogna lavorare molto sulla cultura l'istituto si pone nelle richieste di ammissione al fondo alle richieste di ammissione ad invitalia dopo l'esito favorevole ottenuto da quest'ultimo come valuta i progetti bancabili valuta la capacità del progetto appunto imprenditoriale di generare flussi finanziari in grado di soddisfare tutti gli stakeholder viene valutata la documentazione presentata ad invitalia e non viene richiesta documentazione aggiuntiva per il mezzogiorno il resto al sud rappresenta non solo una opportunità ma rappresenta una vera e propria necessità necessità di mantenere i giovani al sud ed evitare praticamente il che le energie positive del nostro territorio vadano via qual è l'importanza della presenza di invitalia a questo incontro ma invitalia cerca di avvicinare i territori per cominciare a intercettare e anche orientare la progettualità d'impresa che si potrebbe utilmente rapportare alle nostre misure aggiorative quindi noi oggi siamo qui così come ci capita spesso di essere in altri luoghi soprattutto del mezzogiorno quindi nelle aree in ritardo di sviluppo per informare sulle opportunità associate le misure aggiorative che gestiamo e anche per cominciare ad orientare la progettualità di chi incontriamo rispetto alla misura aggiorativa più aderente al suo fabbisogno di sostegno finanziario qual è il fabbisogno imprenditoriale di questo territorio? il fabbisogno imprenditoriale di questo territorio è un po' il fabbisogno imprenditoriale di tutti i territori fondamentalmente la maggiore difficoltà per chi ha un progetto di impresa cantierabile e sostenibile dal punto di vista economico finanziario è poter disporre dei mezzi necessari per avviare l'attività quindi per realizzare il suo progetto di impresa io tra le altre cose sono responsabile di Rest al Sud che è una misura che finanzia al 100% le nuove iniziative imprenditoriali di chi vuole avviare un percorso di autoimpiego noi abbiamo scelto questo luogo perché questo è un luogo veramente per noi emblematico di tante opportunità che ci sono per questo territorio, per quest'area io ho un vantaggio competitivo diciamo non piccolo di essere di quest'area sono un vesuviano a mia volta perché sono di Portice quindi so benissimo quanto la risorsa culturale, quanto la risorsa turistica sia centrale in questo territorio tante volte ne abbiamo parlato, proviamo a dare attuazione a questo ragionamento lo facciamo attraverso delle misure di incentivazione i soldi ci sono, fate uscire fuori le idee e probabilmente daremo una svolta a questi luoghi ce la possiamo fare questa volta